Questa è davvero una grande opportunità finalmente per una politica di sviluppo integrato del nostro territorio. Mazzara ha il suo core business che è il settore della pesca e dell'indotto. Avere queste decine di ettari che costituiscono una zona così importante che può fruire dei vantaggi fiscali sotto forma di credito d'imposta per tutti coloro che investiranno sia in area portuale e retroportuale ma soprattutto nell'area attorno alla circonvallazione dove c'è la classica filiera del freddo, quella che conosciamo bene, è sicuramente un'opportunità per integrare e diversificare le strategie di sviluppo economico per la nostra città. Sono opportunità che non guardano soltanto al classico settore della pesca ma anche a quello per esempio delle energie rinnovabili o per esempio tutto quello che riguarda la transizione ecologica e le grandi opportunità che i risvolti tecnologici offrono oggi. Territori come il nostro diventano appetibili e diventano finalmente oggetto di investimento. Questa amministrazione è da tempo impegnata a mettere Mazzara del Vallo al centro delle politiche economiche non solo nazionali ma anche comunitarie per quello che riguarda il suo settore privilegiato che è quello della pesca e dell'indotto. Oggi si aprono nuove opportunità e scenari sicuramente più ampie. Sono occasioni che io spero che vengano colte ma per fare questo occorre non soltanto il dettato normativo ma occorre anche una strategia che metta Mazzara al centro delle attenzioni degli investitori e questo è l'impegno sul quale noi siamo concentrati. Le opportunità principali sono quelle che riguardano sia le agevolazioni fiscali che di fatto si sostanziano nel principale intervento che è il cosiddetto credito sud potenziato per le ZES investimenti fino a 100 milioni, la possibilità di acquisire terreni e ampliare capannoni e poi la grande rivoluzione è quella del processo amministrativo che ha tempi certi, tempi ridotti e tutto passa dallo sportello digitale del commissario e dalla struttura commissariale che rivoluziona il rapporto con gli enti locali che devono rilasciare autorizzazioni e con le imprese che invece fanno richiesta per svolgere e realizzare i propri investimenti. L'incontro con il sindaco di Mazzara è stato fra i primi incontri che abbiamo avuto è stato un incontro particolarmente proficuo perché ci siamo resi conto dell'importanza dell'industria e soprattutto del settore della pesca che insiste su quest'area ci sono grandi opportunità ovviamente di chiudere tutta la filiera del settore della pesca e da questo punto di vista la struttura commissariale e il commissario sono a disposizione sia con riferimento alle imprese che voglio investire sia per le necessarie opere infrastrutturali che possono completare e potenziare le aree già destinate.